Signore e signori, è uscito in libreria il mio nuovo romanzo, l'usia inedito dalla Saga Edizioni. Questo è un romanzo che potremmo definire un thriller storico con venature soprannaturali. Ovviamente la figura del vampiro sarà dominante, ma sarà riproposta non nei soliti cliché, ma in una nuova chiave. Un romanzo che si rifà molto a quelli del romanticismo, anche nella tipologia di scrittura. Io sto tentando di riportare in auge un lessico un po' perduto e che mi ha sempre affascinato. Quello che mi auguro è di poter avere una chance, di poter riuscire a conquistare la vostra fiducia, che per me è tutto, e di convincervi con questa storia, che per me significa tanto. Un abbraccio grande! Un abbraccio grande!